Io non sono così convinto che le prossime due sono importanti, ma sono convinto che sono determinanti. Io sarei contento di domani, che siamo un po' in emergenza, di fare un punto, sarei molto contento, un punto con una bella prestazione. Ecco, una prestazione viva di stare in partita fino alla fine, poi per quella con Renate ci penseremo dopo. Però io parlo solo quella di domani, mi piacerebbe chiudere l'annata solare, non calcistica, non l'andata calcistica, perché manca ancora una partita, sperando di fare almeno un risultato positivo contro una squadra che secondo me è lì per adesso, ma potenzialmente da metà in su. A di là di questo io penso invece che il campionato si decida a febbraio-marzo, non nelle prossime due partite. A febbraio-marzo bisogna essere a posto, con la squadra e con la testa. E così andare avanti con questo entusiasmo, non è la cosa che fa piacere, l'entusiasmo che c'è in allenamento. Non sono sereno come lo ha il Presidente, io sono molto in tensione, non sarò mai sereno fino a quando arriviamo penultimi, perché per adesso l'unico obiettivo vero è arrivare penultimi e non sarà facile, non è che succeda nelle prossime due partite, ma se succede e se saremo bravi succede a febbraio-marzo. Questa è la mia previsione. E penso anche che comunque dipenda da noi, senza guardare agli altri. Quindi la realtà è che noi dobbiamo andare a fare una partita sempre, come ultimamente, in emergenza. Quando li avremo tutti saremo una squadra e poi quelli che rientreranno dall'infortunio sono bravi, ma devono dimostrarlo. Prima nella condizione, poi nello spirito. Si è creato un buon gruppo che però deve andare avanti così. Chi arriverà deve essere a disposizione, chiaramente metti dentro qualche giocatore più pronto, non più bravo, più pronto, è più facile, è giusto, è più cambi. Però fino alla fine per me sarà sofferenza. Io la penso così e che ci si può salvare, ripeto, è stata la prima cosa che ho detto, all'ultimo secondo dell'ultima partita dei play-out.